Sulla sanità chiedo al Governo un supplemento d'attenzione per la Calabria. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha partecipato ad Agorai State sul Retre. Nel corso dell'intervista ha voluto con chiarezza spiegare qual è la situazione. La mia è una Regione che è commissariata da 12 anni, per cui sostanzialmente è il Governo nazionale ad essersene occupato in questo tempo. La Calabria potrebbe assumere 2.000, tra medici e infermieri, ma non riusciamo a farlo perché il sistema sanitario calabrese non è attrattivo. Per questo, ha ribadito il Presidente Chiuto, sto chiedendo al Governo di darmi strumenti straordinari. Al momento carabinieri, poliziotti e magistrati che vengono a lavorare in Calabria per contrastare la criminalità percepiscono dei vantaggi dal punto di vista economico e di carriera, proprio perché vanno in arredisaggiate. Ecco, io mi sto impegnando affinché anche i medici che vengono a lavorare in Calabria possano essere riconosciuti gli stessi incentivi. Il Governatore della Calabria, con chiarezza, ha sottolineato che se c'è una Regione dove la sanità è maggiormente disagiata, più che nel resto d'Italia, quella è proprio la Calabria, una Calabria che merita attenzione da parte del Governo nazionale.